La situazione organizzativa dell'Ellis attualmente qual è anche in relazione al fatto che è un riferimento soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni al momento? Sì, al momento riusciamo ancora a far coexistere i due aspetti, cioè quello di essere un ospedale specializzato nella cura di soggetti fragili con l'essere punto vaccinale e l'essere praticamente localizzato in città, quindi un punto di riferimento per tutti gli utenti del centro città sostanzialmente che stanno venendo per fortuna da noi in numero notevole, quindi vuol dire che c'è stato un risveglio di interesse per le vaccinazioni complice evidentemente anche il fatto delle iniziative di legge quali il Super Green Pass, l'obbligatorietà per una serie di categorie dal 16 dicembre in poi e così via ma anche i numeri della pandemia che hanno ripreso a correre e che quindi ovviamente procurano una certa apprezzione. C'è stato un incremento negli ultimi giorni? Sì, assolutamente sì, abbiamo numeri importanti, abbiamo un'agenda settimanale che ormai satura, noi la domenica facciamo anche l'open day, dal 16 partiranno anche i bambini, stiamo lavorando su una linea dedicata ai bambini, preferibilmente di pomeriggio considerando appunto che i bambini di giorno dovrebbero andare a scuola, in modo tale da poterli accogliere nel migliore dei modi per poter fare in modo che questa vaccinazione sia un'occasione per loro di essere protetti senza procurare paure e apprezzioni che in questa fascia d'età sappiamo essere particolarmente vulnerabili. Grazie.